l'introduzione. Io vi presento invece l'esperienza del centro delle distrofie retiniche dell'ospedale San Paolo di Milano che compie quest'anno 30 anni dall'apertura. È venuto infatti nel 1988 per volontà del professor Orzalesi e il centro è stato diretto fino al 2014 dalla compianta dottoressa Pierrotè. Il centro si occupa di distrofie retiniche ereditari ovviamente che sappiamo tutti essere un gruppo eterogene di malattie della retina che colpiscono principalmente la retina esterna cioè i fotorecettori. Sono malattie genetiche come abbiamo visto quindi che riconoscono una o più mutazioni responsabili di patologia. I fotorecettori molto brevemente sono quella struttura che riceve lo stimolo luminoso e la trasforma in stimolo nervoso che viene poi condotto alla corteccia visiva dove il segnale viene elaborato e riconosciuto come immagini. I fotorecettori sono fondamentalmente di due tipi bastoncelli e coni, uno nella parte periferica della retina e uno nella parte centrale con funzioni differenti. Questo per dire che le malattie delle distrofie della retina possono essere divise in maniera grossolana in due gruppi, gruppo distrofie bastoncelli coni e distrofie coni bastoncelli ma che in realtà sono molto numerose e quindi la diagnosi non è facile. Come diceva prima il professor Testa, ci vuole un team multidisciplinare spesso per arrivare all'individuazione e alla diagnosi di patologia. L'ospedale San Paolo si trova nella zona sud-ovest di Milano ed è raggiungibile in macchina o con i mezzi pubblici, quindi sia col metro c'è una fermata a pochi minuti dall'ospedale San Paolo o con le linee autobus. In particolare la clinica oculistica si trova al quinto piano del blocco B come Bologna dell'ospedale San Paolo. Ho diviso la mia presentazione in due aspetti fondamentali del team che segue le distrofie retiniche in quanto si riconosce un'attività clinica. La cosa importante, come diceva il professor Testa prima, è quello di avere un servizio dedicato alle distrofie retiniche, quindi i pazienti non sono visitati nel contesto di altri ambulatori, ma c'è un team specifico che segue questi pazienti. L'attività viene svolta lunedì, mercoledì e venerdì mattina. Vengono visitati otto pazienti ogni mattina, più uno o due controlli OCT o fondo dell'occhio in base all'esigenza del paziente. Il follow-up che viene consigliato è annuale e la cosa importante è che abbiamo noi la gestione diretta dell'azienda e quindi siamo in grado di poter dare un appuntamento non sempre in tempi ragionevoli, però di venire incontro anche alle esigenze del paziente. Quindi l'attività clinica si basa principalmente nell'inquadramento, diagnosi e gestione sia medica che chirurgica quando necessario. Ci avvaliamo poi di un centro ipovisione molto attivo che si trova accanto al centro delle distrofie retiniche. In seconda battuta possiamo consigliare al paziente la genotipizzazione che è l'obiettivo poi accanto alla diagnosi clinica, quello di avere anche una diagnosi genetica e il paziente viene poi inserito in un database per attività di ricerca. Vi illustro brevemente il nostro reparto, questo è stato il corridoio che i pazienti fanno per arrivare davanti al centro delle distrofie retiniche che si trova alla stanza 8, dove viene preso in carico il paziente per la prima volta, viene fatto il colloquio con il paziente, l'anamnesi e viene eseguita la prima parte della visita. Dopodiché nell'ambito dello stesso giorno, la stessa mattina il paziente esegue tutti gli esami necessari sia nel primo inquadramento sia poi per il follow up, quindi abbiamo a disposizione vari tipi di campo visivo, strumenti per elettrofisiologia, foto del fondo dell'occhio, microperimetria, l'OCT, l'autofluorescenza e eventualmente quando necessario la florangiografia, poi si ritorna alla stanza 8 per il colloquio conclusivo, l'osservazione del fondo dell'occhio e appunto il colloquio con il paziente. Accanto alla stanza 8 c'è la stanza 6 che invece è quella del centro ipovisione, sempre intitolato alla memoria della dottoressa Pierrotte, dove il paziente viene valutato e vengono valutati gli ausili che possono migliorare la qualità di vita del paziente e questo è un aspetto fondamentale, non è sufficiente solo la diagnosi, è necessario fornire anche degli strumenti al paziente per poter migliorare la qualità della vita. Vi presento brevemente anche gli attori di questo team, il professor Rossetti in primis che è il direttore della clinica oculistica, cui devo molto perché ha affidato a me neospecialista l'incarico di portare avanti il lavoro della dottoressa Pierrotte, accanto a lui il dottor Patelli che è il chirurgo della retina con cui vedremo dopo eseguiamo gli impianti di retina artificiale di Argus e questo è il team invece che lavora più strettamente a contatto con il paziente, ci sono io al centro partendo da sinistra verso destra, la dottoressa Torregrossa che è una specializzanda molto preparata che ci aiuta, il dottor Ferri che è l'ortottista che si occupa del centro ipovisione che molti di voi conosceranno, la dottoressa Bancheri che è un ortottista e l'ortottista dedicata al servizio delle distrofie retiniche, quella che mi aiuta poi negli esami dei pazienti, il dottor Abesci che è un futuro genetista e che segue invece la parte relativa ai test genetici. Ci avvaliamo anche di consulenti esterni, il dottor Savaresi che è un esperto di ipovisione, la dottoressa Sterpa che è una psicologa psicoterapeuta e il dottor Davide Fumagalli che è un caro amico compagno di medicina che adesso è uno specialista in igiene e medicina preventiva e ha un master in nutrizione e con cui abbiamo stilato un modello di dieta per i pazienti affetti da retinite pigmentosa che stiamo proponendo ultimamente, semplicemente inserendo pochi dati del paziente è possibile avere quello che è un modello assolutamente generico ma che va un pochettino con questo programma a essere specifico e quindi a fare quella che è una proposta alimentare perché il paziente abbia un intake giornaliero di vitamine e altri fattori che possono essere utili, è vero che non è dimostrato però nel rallentare la progressione della patologia o perlomeno migliorare anche qui la qualità della vita. Accanto ad un'attività clinica c'è anche un'attività di ricerca, miriocina, NGF, a breve partiremo con uno studio nella malattia di Stargard, l'elettrostimolazione è stata a lungo testata nel nostro centro, noi stessi abbiamo provato queste due metodiche. Faccio una breve parentesi, attualmente attivo su questo sito reactcommunity.org, una campagna di raccolta fondi per uno studio che abbiamo che è già stato approvato dal nostro comitato etico sempre relativo all'elettrostimolazione per chi volesse può contribuire anche con una cifra assolutamente piccola alla realizzazione di questo studio. La valutazione di ausili come possono essere l'Orcam che sto provando io nella foto di sinistra, un altro strumento che è l'eSight che vedete invece nell'immagine di destra. Credo che ci sia poi probabilmente a disposizione questo strumento che è Orcam per chi volesse provarlo, credo sia qui a Roma che a Milano, quindi se qualcuno fosse interessato poi alla prova di questo ausilio credo che ci sia qualcuno qui che possa mostrarlo e farlo provare. Siamo impegnati anche in un'altra attività di ricerca importante che è quella della retina, gli impianti di retina artificiale, ne abbiamo fatti 4 ad oggi e ne abbiamo in programma altri 6 per quest'anno e l'anno 21. Sicuramente è una prima dimostrazione che è impossibile rigenerare seppur parzialmente la funzione visiva anche se sicuramente di strada dobbiamo ancora farne molta. Sapete che nella retinite, questo è uno schema della retina, degenera la parte esterna della retina, quindi i fotorecettori vanno in atrofia ma le normali vie che poi conducono lo stimolo visivo alla corteccia sono conservate anche nella fase più evoluta di malattia. Proprio questo è questo principio che viene sfruttato dalla retina artificiale che oggi è disponibile che è Argus 2 che consta sia di una parte intraoculare che di una parte poi esterna che il paziente indossa, sono degli occhiali con telecamera, un piccolo processore, questa è brevemente un'immagine pre-post intervento, a sinistra la retina senza l'impianto, a destra la retina con l'impianto, tutto questo per dire che oltre all'impianto di retina artificiale è importante anche poi tutta la fase riabilitativa e vi volevo mostrare con un po' di orgoglio anche i risultati raggiunti dal nostro ultimo paziente impiantato. L'idea è stata quella di associare all'Argus che è rappresentato dagli occhiali che il paziente porta anche l'Orca. Questo gli consente di fare questa cosa che vi mostro, era un paziente che aveva una mera percezione delle luci prima dell'intervento, è in grado con Argus di scansionare il tavolo e riconoscere che vi è un oggetto e quindi di afferrarlo e poi attivando Orcam, semplicemente con questo gesto, adesso non si sente però l'Orcam gli dice che ha in mano un telecomando, quindi sicuramente è un grosso passo in avanti per questo paziente. Progetti futuri, l'obiettivo è la genotipizzazione e quindi arrivare il più possibile ad avere una diagnosi oltre che clinica anche genetica per tutti i pazienti. Come diceva prima il professor Testa è importante trovare anche delle metodiche di follow up standardizzate che ci consentano di seguire il paziente nel modo più sensibile e affidabile possibile. Un altro progetto è quello dell'informatizzazione dell'archivio, questo è il nostro archivio oggi che una volontaria di Rete in Italia sta pazientemente sistemando, però l'obiettivo poi successivo è quello di informatizzarlo. Brevemente i contatti e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Colombo